Musica Edizione della notte, buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento, l'ultimo della giornata con la nostra informazione. A distanza di tre anni cominciano a venire a galla i tanti misteri collegati alla Villa Almari di proprietà dei soci della PTS Village Paolo Frattura e Gianluigi Torzi. Il presidente della regione ha ammesso, ma solo dopo essere stato sollecitato dai social, di aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per i reati commessi. Il governatore tenta di minimizzare, ma le accuse sono gravi e secondo indiscrezioni ce ne sarebbero altre in itinera. Allora l'apertura, il servizio di Giovanni Minicozzi. A distanza di quasi tre anni, il giallo legato alla villa, ubicata sul lungomare nord di Termoli, di proprietà dei soci Paolo Frattura e Gianluigi Torzi, è in via di soluzione. Una storia raccapricciante di abusi, violenze e devastazione di proprietà altrui, sulle quali la procura di Larino ha in parte messo un punto fermo comunicando ai diretti interessati l'avviso della conclusione delle indagini preliminari. La notizia è stata diffusa dal presidente della regione, Paolo Frattura, che risulta essere indagato nella vicenda e oggetto della conclusione delle indagini. I fatti sono noti. Nell'agosto del 2014, Paolo Frattura sostituì arbitrariamente il cilindretto del cancello di accesso alla villa e piazzò all'ingresso una guardia giurata armata con l'ordine di non fare entrare nessuna persona che non fosse di suo gradimento. In tal modo Frattura impedì l'accesso all'affittuaria di un appartamento annesso alla villa che risulta essere di proprietà della signora Iole Varanese. Nelle settimane successive l'affittuaria, dopo essere entrata con l'ausilio di un ufficiale giudiziario che eseguì la sentenza che intanto era stata emessa dal Tribunale Civile di Larino, scoprì che il suo appartamento era stato pressoché distrutto totalmente ed erano stati sottratti tutti gli areti interni, compresi i servizi igienici. A quel punto i proprietari presentarono una serie di querele e le indagini si avviarono. Intanto il Tribunale Civile di Larino per ben due volte accertò lo spoglio violento e clandestino nella proprietà altrui e decretò con sentenza chiara ed inequivocabile il diritto della signora Serio ad accedere nel suo appartamento. Peraltro furono i testimoni indicati sia dalla signora Serio sia dalla PTS Village, proprietaria della villa, a fare luce sui fatti accaduti. Ma torniamo all'attualità. Secondo alcune fonti Frattura avrebbe ricevuto l'avviso dalla procura diversi giorni addietro, ma solo oggi il governatore, sollecitato dai social, ha ammesso di aver ricevuto la notifica, peraltro minimizzando i reati e le sue responsabilità. Lui stesso però, nella nota inviata alla stampa, ha ammesso di essere indagato per aver cercato di farsi giustizia da solo, impedendo ai proprietari di entrare nell'appartamento. In realtà, questo reato si chiama esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, a nostro giudizio, non è compatibile moralmente con il ruolo di Presidente della Regione, di aver invaso arbitrariamente un edificio altrui, reato di occupazione di terreni o edifici altrui, e di aver offeso la reputazione di quelle stesse persone, ovvero reati di diffamazione o ingiuria. Secondo quanto raccontato da Paolo Frattura, nella conclusione delle indagini, non ci sarebbero i reati di danneggiamento e violenza privata, cheppure appaiono evidenti nella cronistoria dei fatti. Fonti attentibili, però, hanno fatto sapere che le indagini sulla Villa Misteriosa sarebbero più di una, e quindi è probabile che presto arriveranno altre conclusioni e altre ipotesi di reato. Sulla vicenda pesano e restano irrisolti alcuni dubbi. Primo, come mai la Procura di Larino ha impiegato circa tre anni per concludere solo una parte delle indagini, nonostante la doppia sentenza emessa dal Tribunale Civile di Larino a fronte di fatti acclarati dagli stessi testimoni indicati dalla PTS Village? Secondo, perché la PTS, originariamente di proprietà del solo Gianluigi Torsi, comprò l'immobile con soli 320 mila euro a fronte di un valore commerciale di circa un milione e mezzo di euro? Terzo, quanto ha pagato il presidente Paolo Frattura per acquistare il 50% di quote della PTS e quindi la metà proprietà della Villa, il governatore, se vuole fare chiarezza fino in fondo, deve completare la sua comunicazione, chiarendo tutti i misteri che ancora oggi avvolgono quell'operazione immobiliare. Siamo alla politica Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, il partito guidato da Giorgia Meloni scende in campo per le elezioni regionali del Molise e candida alla guida della regione il proprio coordinatore, l'ex consigliere regionale e assessore Filoteo Di Sandro. Il centrodestra è maggioranza in regione ma deve necessariamente essere ricondotta all'unità. Queste le parole dell'interessato. Pasquale Di Bello. Anche la destra scalda i motori in vista delle elezioni regionali della prossima primavera a rompere gli indugi e Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, il partito guidato da Giorgia Meloni e coordinato a livello molisano da Filoteo Di Sandro. E' proprio l'ex consigliere e assessore regionale ad essere stato indicato dal partito come candidato alla presidenza della regione. Sono convinto, dice il diretto interessato, che il tempo sia ormai finito per continuare a perdersi nel teatrino del politichese. Dopo questi anni di governo Frattura ha proseguito, non ci sono più dubbi che un tessuto sociale e culturale di riferimento del centrodestra sia oggi più che mai maggioranza in regione ma deve essere ricondotto ad unità. La richiesta di unità va nella direzione auspicata da molti all'interno del centrodestra, soprattutto davanti ad un quadro che presenta la compagine avversaria, il centrosinistra, totalmente sfilacciata. Unico punto di riferimento nel centrodestra è al momento la candidatura certa di Michele Iorio. L'ex governatore ha da tempo annunciato la propria intenzione di riproporsi alla guida della regione, fatto che ha aperto una discussione e dato la stura anche ad una serie di distinguo. Quella di Di Sandro, tuttavia, più che la proposta di una candidatura di coalizione, è una candidatura di bandiera. Quello che resta della destra in Molise è al momento difficile da quantificare, specie dopo la distruzione di alleanza nazionale confluita nel velleitario progetto del PDL berlusconiano e dopo la indecorosa fine politica di Gianfranco Fini. Tuttavia un popolo di destra esiste e va chiamato a raccolta, soprattutto laddove sarà necessario porre un argine al neoliberismo dilagante in Molise, quello che ha portato, ad esempio, a smantellare la sanità pubblica. Occorre recuperare una dimensione sociale, tratto che non è mai mancato a destra e fatto che Di Sandro conosce molto bene, avendo militato a lungo nella componente di destra sociale, quella che faceva riferimento a Gianni Alemanno e Francesco Storace. E' separato dell'intreccio tra mafia, politica ed economia durante un incontro organizzato a Frosolone con Don Luigi Ciotti, fondatore dell'Associazione Libera, e il nostro servizio. Sergio Di Vincenzo. Dalla morte di Paolo Borsellino e di Rita Atria, la testimonia di giustizia che si tolse la vita pochi giorni dopo la strage di Via D'Amelio, sono cambiate molte cose. Le coscienze sono maturate, l'impegno della società civile è crescente, ma l'illegalità è sempre devastante. La mafia è più viva che mai e continua a colpire, anche e soprattutto con l'arma della corruzione. Questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal fondatore dell'Associazione Libera, Don Luigi Ciotti, durante un incontro organizzato a Frosolone, dalla Caritas di Ocesiana di Trivento e dalla Scuola di Formazione all'impegno politico e sociale Paolo Borsellino, in collaborazione con il Comune e la Proloco. Dobbiamo riconoscere le positività, ma dobbiamo anche non dimenticarci dell'ultimo rapporto con il Senato Parlamento dalla Direzione Nazionale Antimafia, che mette in evidenza che in Italia ci sono ancora due zone dove si sparge molto sangue, Napoli e Foggia, il Foggiano. Ma in tutto l'altro c'è un nuovo sistema che le mafie stanno attuando, che è la corruzione, il sistema corruttivo. E quindi è un sistema che mette insieme questo intreccio, la criminalità organizzata, la criminalità politica e la criminalità economica. Anche in realtà apparentemente tranquille come il Molise, ha ribadito Don Luigi Ciotti, l'illegalità trova terreno fertile. Tenere sempre alta l'attenzione è quanto mai doveroso, ma occorre comunque mantenere un certo equilibrio. Ci sono dei problemi che evidentemente devono essere illuminati, senza dimenticare le cose belle e positive che ci sono. Quindi non bisogna sopravvalutare, neanche sottovalutare. Prende lucida coscienza che le mafie, nelle loro varie espressioni, trovano il modo sempre di essere presenti. Per il nuovo Vescovo della Diocesi di Trivento, Monsignor Claudio Palumbo, la soluzione per migliorare la società c'è, rimettere l'uomo e la sua dignità al centro di ogni discorso. Questo credo che sia il primo valore che nella società così globalizzata, dove per usare un'espressione di Papa Benedetto XVI, esiste la dittatura del relativismo, quello che la sera può essere valido, dopo poche ore non è più valido, credo che ricominciare dalla dignità della persona umana, ponendo la persona umana al centro di ogni attenzione, sia il vero segreto, ecco, per una fattiva ripresa. Per il Vescovo questa è stata la prima visita a Frosolone, uno dei centri più importanti della Diocesi di Trivento. L'intera comunità lo ha accolto con grande affetto e un dono, una croce traforata, simbolo della grande tradizione artigianale frosolonese. Siamo alla cronaca tragedia nella tarda serata di ieri a Pietra Abbondante, dove un uomo ha perso la vita finendo con il suo quad in una scarpata dopo aver compiuto un volo di circa 30 metri. La vittima è Germano Battaglia, di 65 anni. L'incidente si è verificato in località Orto Vecchio, nelle vicinanze della Fondovalle del Verrino. L'allarme è stato lanciato da un amico che si trovava in compagnia con lui e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, vigili del fuoco e carabinieri che indagano per risalire alle cause dell'incidente. Un uomo di 30 anni, originario di Casori, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza della compagnia di Isernia perché è trovato in possesso di circa 100 grammi di ascisce. Per evitare la perquisizione ha consegnato spontaneamente alcuni grammi di marijuana, ma i finanzieri hanno comunque approfondito i controlli, trovandogli addosso un panetto di ascisci. Il trentenne è stato rinchiuso nel carcere di Ponte San Leonardo. Cambiamo argomento, non si è ancora attenuata all'eco dei tirocini over 30 che Isernia subisce un altro ammazzato, un altro duro colpo a livello di immagine. Infatti la mancata partecipazione al campionato di A2 di calcio A5, motivazione, il mancato adeguamento del palasporto alle nuove norme di sicurezza dettate dal Ministero dopo gli attentati e fatti di Torino. Enzo Di Gaetano. Per tenere buona la plebe, il Senato romano era solito fornirle pane met circenses senza risparmio. Sostegno economico e spettacoli sportivi diremo oggi. Due cose che però a Isernia stanno venendo meno in maniera preoccupante, sindomo di un declino inarrestabile del capoluogo Pentro. Infatti ancora non si attenuavano polemiche scambi di accuse per la figuraccia rimediata dalla provincia, incapace anche a trasmettere in tempo utile le domande per i tirocini over 30, che si è subito aperto un'altra pagina ferale nella triste cronaca contemporanea della città di Isernia. Si parla della mancata partecipazione della squadra di calcio A5 al campionato nazionale di Serie A2. Un campionato guadagnato con lacrime e sangue alla fine di una stagione saltante dal punto di vista dello sport e dell'immagine di Isernia, che aveva avuto occasione di confrontarsi e sfidare altre belle realtà provinciali di tutta Italia. Antonio Ionata non parla, ma le indiscrizioni dicono che avrebbe rinunciato dopo aver constatato che il Comune non aveva installato le previste misure di sicurezza al pala fraraccio. Innovazioni imposte dal Viminale per prevenire atti di terrorismo e panico tra la folla, come accaduto a Torino. Sempre il Comune aveva garantito di mettere a posto tutto entro il 30 settembre, ma così non è stato e ieri la questura ha comunicato a Ionata che la capienza del palazzetto dello sport non avrebbe potuto superare le 200 presenze, incompatibili e insufficienti per un campionato di A2. Così a due giorni dall'inizio del campionato Antonio Ionata è rimasto unico responsabile della società, ha tirato i remi in barca e ha svincolato tecnici e giocatori. Una scelta difficilissima e sofferta anche più costosa, dal punto di vista finanziario, se si pensa che, se avesse voluto, Ionata a quel titolo conquistato sul campo lo avrebbe potuto rivendere. Invece no, a 48 ore dall'esordio in campionato, l'Isernia Calcio a 5 ricorre all'eutanasia e cessa di esistere. L'analisi dal punto di vista sportivo e la ricerca delle ragioni le faranno i colleghi dello sport ascoltando Antonio Ionata, ma quello che oggi salta fuori è l'ennesimo tonfo, passo falso o scivolone dell'immagine di una città, Isernia, che fino a dieci anni fa era l'ombelico della regione, politicamente ed economicamente. Nel giro di cinque giorni sembra essere finita nel sottoscalla del Molise due segnali, la figuraccia della mancata partecipazione ai tirocini over 30 e il ritiro della squadra di calcio a 5. Tutti e due dimostrano che a questa città stanno cominciando a mangare gli stimoli vitali, le motivazioni, la forza anche psicologica di resistere alle avversità e guardare avanti. Intanto continuiamo ad aspettare che Coia o qualche dirigente della provincia ci spieghi cosa è successo al centro per l'impiego, dica perché 26 domande di disoccupati Isernini non sono state trasmesse in tempo utile. Così come aspettiamo che qualcuno al comune ci spieghi perché il parasport Fraraccio non sia stato dotato in tempo utile delle misure di sicurezza richieste da Prefettura e Questura per le manifestazioni sportive. Se quelle misure fossero state installate in tempo utile, cioè entro il 30 settembre, forse l'Isernia a calcio a 5 sarebbe ancora in vita. Le province sono al collasso e senza risorse sono a rischio i servizi essenziali. A Campobasso, presidio dei sindacati in Piazza Pepe. Vediamo. Provincie e città metropolitane prossime al collasso dopo le riforme del Rio e Madia servono risorse per consentire l'erogazione dei servizi fondamentali ai cittadini e per tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. A partire dal pagamento degli stipendi, stamattina in Piazza Pepe a Campobasso, così come in tante altre piazze d'Italia, il presidio di Cigelle, Cisle Will, significativo, eloquente, lo slogan Evitiamo il baratro. La cittadinanza, la gente ci cede dei servizi perché ha bisogno di strade fruibili, ha bisogno di istituti scolastici che diano garanzie. Purtroppo al momento gli enti sono veramente in sofferenza. Le province avvertono un disagio per chiudere i bilanci, perché le risorse dello Stato e i contributi che lo Stato stesso ci ha chiesto per integrare, per rimborso e per la partecipazione alla spending review fanno sì che veramente c'è una perdita progressiva in capacità di spesa che dal 2013-14 fino ad adesso ha prodotto veramente dell'incapacità a poter operare. Lavoratrici e lavoratori in alcuni casi non ricevono lo stipendio da sei mesi, i sindacati chiedono uno stanziamento adeguato, delle risorse per salvare gli enti vicini al dissesto finanziario e con i bilanci in rosso. Meno risorse, meno servizi per i cittadini, a rischio ci sono quelli essenziali come la manutenzione di strade e scuole, ma la triplice chiede anche la difesa della contrattazione collettiva, lo sblocco del turnover e la stabilizzazione dei precari. Se si voleva procedere a una riforma alla pubblica amministrazione bisognava a priori stabilire un processo che trasferisse a degli enti quelle che erano le competenze della stessa provincia, in maniera tale da garantire sempre dei servizi alla cittadinanza. L'Associazione dei costruttori del Molise, costruttori edili del Molise, ha scritto all'assessore regionale dell'agricoltura Facciolla sollecitando lo sblocco dei fondi del PSR. Le imprese sono in forte difficoltà, ha evidenziato il vicepresidente dell'ACEM Carmine Abiuso per i ritardi dei pagamenti dei lavori eseguiti e finanziati dal programma. Pare ci siano problemi di natura informatica continuato e confidiamo che vengano subito risolti. Adesso parliamo di acqua, un tempo orgoglio della città di Campobasso. Ora a causa dell'impennata dei consumi dell'acqua in bottiglia, l'amministrazione torna a puntare sulla propria rete idrica e si prepara ad inaugurare il distributore a 5 centesimi al litro. Giovanni Di Tota. Per anni quello dell'acqua buona insieme all'aria e alla mozzarella è stato uno dei cavalli di battaglia per raccontare le cose migliori di Campobasso. Diventato prima un luogo comune e poi un assunto sempre più difficile da dimostrare, il biglietto da visita dell'acqua pura e fresca potrebbe tornare ad essere un punto di forza della città. Almeno è quello che spera l'amministrazione comunale che ha avviato il progetto La Casa dell'Acqua, nato anche per abbattere i costi e ridurre l'inquinamento. Tutto nasce da un impressionante aumento del consumo dell'acqua minerale, liscia o frizzante che sia, ma comunque in bottiglia, registrato negli ultimi anni anche a Campobasso. Un atteggiamento da parte dei cittadini che ha indotto Palazzo San Giorgio a correre ai ripari. Il consumo dell'acqua in bottiglia, hanno spiegato dal comune del capoluogo, ha raggiunto livelli preoccupanti con conseguenze sull'ambiente. Su una base più ampia, la fabbricazione e il trasporto delle bottiglie di plastica comporta un grande consumo di petrolio e provoca emissioni inquinanti nell'aria, argomento in più per indurre l'amministrazione comunale ad aprire un sistema per distribuire l'acqua a chilometro zero, già da anni sperimentato in altre città italiane, e a promuovere un comportamento e uno stile di vita responsabili dell'ambiente, oltre che a ridurre la quantità di rifiuti prodotti dalle famiglie. Nel distributore, che aprirà il 10 ottobre in Via Toscana, potrà essere prelevata acqua dalla rete comunale, che poi, attraverso una serie di filtri e trattamenti, verrà erogata anche frizzante e refrigerata a 5 centesimi al litro. Il taglio del nastro è previsto martedì prossimo alle 11.30. È evidente che risparmio e meno rifiuti sono due obiettivi importanti, a condizione che chi sceglie di bere acqua di Campobasso non arrivi in Via Toscana con le bottiglie di plastica. È la tariffa perfetta, uno strumento verso i rifiuti zero, è il titolo del convegno che si è svolto stamattina a Campobasso, riferito alla Tari. Vediamo. Assessore, la tariffa puntuale cos'è? La tariffa puntuale è un obiettivo dell'amministrazione comunale di Campobasso, ma è l'ultimo obiettivo di una serie di traguardi che dobbiamo raggiungere ovviamente con successo per dotare la città di Campobasso a un sistema completo per quello che riguarda la gestione dei rifiuti. Quindi dalla tipologia di raccolta, raccolta riferenziata che giorno giorno sta invadendo piano piano e cambiando le abitudini dei nostri cittadini, ad arrivare fino a una tariffazione puntuale, ovvero un pagamento del servizio di raccolta differenziata in modo equo in base all'apporto che un utente dà, in sintesi seguendo un principio europeo di chi più inquina più paga. Dunque uno strumento utile per giungere all'obiettivo rifiuti zero, il quadro legislativo e regolamentare, le modalità applicative, le nuove modalità di raccolta e misurazione dei servizi, temi trattati nel corso del convegno di stamattina a Campobasso presso la sala conferenze del Circolo Sannitico, alla presenza di esperti e tecnici del settore, incontro suddiviso in tre momenti, il quadro legislativo e normativo, il quadro applicativo e le esperienze con particolare riferimento alle esperienze innovative di tariffazione puntuale in grado di valutare azioni di riduzione dei rifiuti da parte delle utenze. Il percorso della differenziata a Campobasso a che punto è? La differenziata a Campobasso è partita nel centro storico e si sta consolidando con una serie di azioni correttive perché è normale in un processo di cambiamento di abitudini che il cittadino possa avere delle difficoltà nell'adaltarsi ai nuovi stili di vita. E noi cerchiamo di affiancarlo in modo silente, in una comunicazione one to one, per il momento ancora non la espandiamo in modo pandemico anche sui media, e poi abbiamo iniziato un approccio nelle contrade, cioè tutta l'area periferica della città che pian piano andranno a costituire questo anche cordone di difesa anche da una migrazione dei rifiuti dei comuni limitrofi che si registra ma è fisiologica e quindi cerchiamo anche di sopperire, cioè di andare subito a tamponare un'emergenza che chi vive in contrada lo sta vedendo, diciamo nelle zone cerniera soffrono un po' questa migrazione dei paesi intorno che sono anche loro particolare raccolta differenziata. E pian piano ci andremo a stringere verso i grandi quartieri. E' stato firmato al Comune di Larino l'atto costitutivo del primo biodistretto dei Laghi Frentani, promosso e sostenuto dall'amministrazione comunale larinese. Il progetto vede Larino come città capofila di un'associazione composta da 14 comuni. Ha preso quindi ufficialmente il via, il percorso che porterà alla realizzazione di un distretto del biologico, quale strumento è a servizio di un'area in cui gli agricoltori, cittadini, imprese private e amministrazioni pubbliche stringono un patto per la gestione sostenibile delle risorse secondo i principi dell'agricoltura biologica e dell'agroecologia. Un centro di prima accoglienza per migranti nell'ex villaggio provvisorio di San Giuliano di Puglia, il Comune ha chiesto al Governo nazionale di ridurre in modo consistente il numero delle persone da ospitare rispetto alle iniziali 500 e precise garanzie di sicurezza. Se la Convenzione non sarà modificata non si procederà con il bando per la gestione, ha affermato il Sindaco Barbieri. Intanto dopo il via libera del Tar presto inizieranno i lavori. Fabrizio Occhionero. Il progetto di riconversione del villaggio provvisorio di San Giuliano di Puglia in centro di prima accoglienza per migranti. È prevista a breve la firma del contratto con la successiva consegna dei lavori per gli interventi di adeguamento delle oltre 200 casette di legno che ospitarono le famiglie sfollate nel periodo successivo al terremoto del 2002. Le procedure dell'appalto da 3 milioni di euro vanno avanti dopo il verdetto del Tar che ha respinto il ricorso presentato dalla ditta arrivata seconda, confermando l'aggiudicazione alla CSE di Vinchiaturo. Presto si passerà alla fase del cantiere con tutte le opere previste per la nuova destinazione d'uso. Resta aperto invece il fronte delle modalità di accoglienza e soprattutto dei numeri del progetto che in base agli accordi iniziali considera fino a 500 migranti. Il sindaco di San Giuliano di Puglia, Luigi Barbieri, si è già rivolto al Ministero dell'Interno per chiedere garanzie e una modifica della convenzione sottoscritta con la Prefettura. Tre gli aspetti evidenziati e ribaditi anche al prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico. Consistente riduzione del numero delle persone da accogliere, attivare un presidio delle forze dell'ordine 24 ore su 24, potenziando anche il personale delle stazioni dei carabinieri presenti sul territorio. Garantire un presidio sanitario, il tutto anche per ridiscutere gli accordi alla luce delle nuove politiche dell'accoglienza attuate dal Governo nazionale. Osservazioni che sono state condivise dalla Regione. Barbieri ha peraltro evidenziato che in mancanza di tali condizioni non si procederà con il bando che dovrà affidare la gestione del villaggio. Un no al centro di San Giuliano è arrivato di recente dai tre comuni limitrofi, Santa Croce di Magliano, Colletorto e Bonefro, con le delibere approvate dai rispettivi consigli. Il dibattito resta aperto con una certezza e una richiesta in sospeso. La prima è che i lavori previsti da una gara d'appalto ufficiale e aggiudicata andranno avanti anche per evitare possibili contenziosi. L'altra è capire con precise garanzie quanti migranti arriveranno nel centro di San Giuliano e le modalità di gestione dopo le nuove osservazioni trasmessi al governo centrale. Si aspettano risposte ufficiali. Ernesto Saquela, filosofo per Mezzo del Colore, il titolo della mostra L'ex Gil di Campobasso resterà aperta fino al 18 di ottobre. In esposizione una novantina di opere dell'artista Campobassano scomparso, lo ricorderete, nel 2008. Sentiamo Tonino Danese. L'astrattismo ma anche la realtà virtuale, il cyberspazio, la multimedialità, l'arte di Ernesto Saquela a Campobassano scomparso nel 2008 è varia. Nelle sue opere la sperimentazione, il racconto dello spirito, il suo modo di vedere e di sentire la vita emerge nelle opere esposte all'ex Gil a Campobasso. Una mostra curata da Nino Barone e Giuseppe Siano dal titolo Ernesto Saquela, filosofo per Mezzo del Colore, organizzata da Officina Solare Arte Contemporanea, Fondazione Molise Cultura e Assessorato Regionale alla Cultura. È stato realizzato anche un catalogo con testi critici e testimonianze. Ernesto Saquela è stato innanzitutto un intellettuale ad ampio raggio, un intellettuale contemporaneo. Lui documentava la sua opera, ricercava, studiava e trasformava tutta la sua conoscenza in immagini artistiche. La genuinità di Ernesto sta proprio in questo. Lui riusciva a cogliere l'essenza della realtà attraverso il filtro del pensiero dominante nel momento storico in cui lavorava. Quanti quadri esposti e di quale periodo artistico di Ernesto Saquela? Sono circa 90 opere più e rappresentano tutti e sette i cicli dell'attività di Ernesto Saquela, iniziando dalle griglie agli storyboard, agli apici, alle città, all'astrattismo lirico, al periodo del simbolismo, della magia, quindi dell'alchimia. Ci sono rappresentati tutti i periodi e tutti questi quadri fanno vedere la grande originalità di Ernesto Saquela che a mio parere, per questo ho cercato con forza di farlo venire fuori, è un artista contemporaneo importante per la città di Campobasso e per tutto il Molise. I suoi innesti sono innesti di pensiero, poi colorati. La mostra è visitabile all'ex GIL di Campobasso fino al 18 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, lunedì giorno di chiusura al pubblico. Bene è tutto, abbiamo finito. Grazie come sempre per aver preferito la nostra informazione, informazione che, vi ricordo, tornerà puntuale domani mattina come sempre dalle 7 con la nostra rassegna stampa. Grazie ancora, l'augurio per tutti voi e quello di trascorrere una serena notte. Arrivederci. Grazie a tutti.